Capitolo 1 Capitolo 1 Capitolo 1 Mio zio fa'n grande scoperta Mio zio fa'n grande scoperta Mio zio fa'n grande scoperta Mio padre era morto Mio padre era morto Mio padre era morto Vivevo con mio zio in Germania Vivevo con mio zio in Germania Vivevo con mio zio in Germania Mi invo a studiare da lui Mi invo a studiare da lui Mi invo a studiare da lui La sua casa si trovava in una grande città La sua casa si trovava in una grande città La sua casa si trovava in una grande città Mio zio era un professore di geologia, filosofia, chimica e mineralogia Mio zio era un professore di geologia, filosofia, chimica e mineralogia Un giorno ero nel laboratorio Un giorno ero nel laboratorio Un giorno ero nel laboratorio Iniziai ad avere fame Iniziai ad avere fame All'improvviso mio zio entrò dalla porta principale All'improvviso mio zio entrò dalla porta principale All'improvviso mio zio entrò dalla porta principale Si precipitò al piano di sopra Mio zio non è un uomo cattivo Mio zio non è un uomo cattivo Mio zio non è un uomo cattivo Ma ha un brutto carattere Ma ha un brutto carattere Ma ha un brutto carattere Non ha molto pazienza Non ha molto pazienza Non ha molto pazienza Si aspetta di essere obbedito Si aspetta di essere obbedito Si aspetta di essere obbedito Me chiamò a gran voce Me chiamò a gran voce Me chiamò a gran voce Sali le scale Prima di poter raggiungere la sua stanza mi chiamo di nuovo Stava battendo il piedi sul pavimento Stai salendo, gridò Mio zio era molto dotto Studiava costantemente Leggeva molti libri Leggeva molti libri Leggeva molti libri A volte leggeva tutta la notte A volte leggeva tutta la notte Il suo argomento preferito era la mineralogia Io condividevo il suo interesse Io condividevo il suo interesse Io condividevo il suo interesse Frequentavo tutte le sue lezioni Frequentavo tutte le sue lezioni Frequentavo tutte le sue lezioni Abbiamo raccolto molti esemplari di minerali Abbiamo raccolto molti esemplari di minerali Abbiamo raccolto molti esemplari di minerali Mio zio era in comunicazione con molti grandi scienziati Mio zio era in comunicazione con molti grandi scienziati Mio zio aveva cinquant'anni Mio zio aveva cinquant'anni Mio zio aveva cinquant'anni Era alto e magro Era alto e magro Era alto e magro Aveva occhiali grandi Aveva occhiali grandi Aveva occhiali grandi Aveva lo sguardo strallunato Il suo naso era molto sottile Il suo naso era molto sottile Gli piaceva il tabacco Vivevamo in una bella cassa La casa era situata in una bella strada La casa era situata in una bella strada Era nel centro cittadino Era nel centro cittadino Era ad Hamburgo Era ad Hamburgo Era una casa vecchia Era una casa vecchia Era per metà di mattoni e per metà di legno Era per metà di mattoni e per metà di legno L'edera cresceva sulla cassa Un meraviglioso vecchio albero cresceva A ridosso della porta Mio zio era ricco Aveva una figlioccia Aveva una figlioccia Aveva una figlioccia Il suo nome era Greci Il suo nome era Greci Il suo nome era Greci Lei viveva con noi Amavo la mineralogia Amavo la mineralogia Amavo la mineralogia Amavo il ciotoli Mio zio non aveva molto pazienza Mio zio non aveva molto pazienza Mio zio non aveva molto pazienza Avevamo dei fiori Avevamo dei fiori Avevamo dei fiori Mio zio si alzava presto al mattino Mio zio si alzava presto al mattino Mio zio si alzava presto al mattino Tirava via le foglie del fiore Tirava via le foglie del fiore Tirava via le foglie del fiore Pensava di poter far crescere i fiori più velocemente Pensava di poter far crescere i fiori più velocemente pensava di poter far crescere i fiori più velocemente lo studio di mio zio era come un museo lo studio di mio zio era come un museo lo studio di mio zio era come un museo conteneva molto minerali conteneva molto minerali conteneva molto minerali io conoscevo tutti i minerali io conoscevo tutti i minerali io conoscevo tutti i minerali entrai nello studio entrai nello studio entrai nello studio mio zio stava leggendo un libro mio zio stava leggendo un libro mio zio stava leggendo un libro era un vecchio libro era un vecchio libro era un vecchio libro Il libro era scritto in islandese antico. Un pezzo di carta cade dal libro. C'erano misteriosi scarabocci sul foglio di carta. C'erano misteriosi scarabocci sul foglio di carta. La cuoca ci chiamo per cena. Non cenerò, urlo mio zio. Non cenerò, urlo mio zio. Io avevo fame. Io avevo fame. Andai nella sala da pranzo. Andai nella sala da pranzo. Mi sedetti a tavola. Mi sedetti a tavola. Aspettai mio zio per tre minuti. Aspettai mio zio per tre minuti. Aspettai mio zio per tre minuti. Mangiai del vitello. Mangiai del vitello. Mangiai del vitello. Mangiai della frutta. Bevi del vino. Bevi del vino. Bevi del vino. Mio zio non mangiò. Mio zio non mangiò. La cuoca era irritata. Aveva lavorato sodo per preparare il pasto. Mangiai la porzione dal mio zio. Udì la voce forte di mio zio. Mi stava chiamando a gran voce. Mi stava chiamando a gran voce.